In Europa, più un paese digitalmente sviluppato, minore è il suo livello di corruzione. Questo avviene perché investire nella digitalizzazione significa rendere facilmente accessibili ai cittadini le informazioni di interesse pubblico. Significa anche dare a tutti la possibilità di verificare che non vi siano irregolarità o episodi corruttivi nelle decisioni pubbliche e che queste vengano prese nell'interesse dei cittadini. Nell'Indice Europeo del 2016 di sviluppo e performance digitale, l'Italia occupa gli ultimi posti della classifica insieme a Romania, Bulgaria e Grecia. Per combattere la corruzione nel nostro paese è determinante quindi fare pressioni su governo e istituzioni per arrivare a una piena digitalizzazione.